Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nel corso di un'operazione tra Ottaviano e San Giuseppe Vesoviano, ha sequestrato 6.647 articoli e accessori per la casa, 165 rotoli di stoffa, equivalenti a 4.250 metri e 250 kg di prodotti semilavorati con il noto marchio TUN contraffatto. In particolare la compagnia di Ottaviano, nel corso di tre distinti interventi, in altrettanti depositi commerciali, ha sequestrato migliaia di prodotti tessili per la casa e centinaia di rotoli di tessuto, sui quali era posto senza alcuna autorizzazione il noto marchio simbolo del Natale. Nello specifico tutti i prodotti riproducevano marchi coperti da copyright, erano privi dei dati identificativi che riconducessero ad una produzione originale, nonché dell'etichetta con l'indicazione dell'azienda produttrice autorizzata dalla casa madre e detentrice dei diritti di tutela dei marchi di prodotti. Denunciati per contraffazione marchi e ricettazione, tre responsabili, un 27enne di Scafati, un 37enne di San Giuseppe Vesuviano e un 42enne di Ottaviano, titolari di attività commerciali operanti dei settori di confezionamento biancheria, commercio di tessuti e di prodotti via internet. Il servizio odierno è il risultato di appositi servizi pianificati dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli e finalizzati a contrastare fenomeni di illegalità diffusa, come la contraffazione, terreno fertile per le organizzazioni criminali, soprattutto nell'attuale scenario di emergenza sanitaria. Grazie a tutti. Grazie a tutti.